Noi non siamo qui per stabilire se Ilaria Salis, che è un'insegnante italiana attualmente detenuta in Ungheria, sia colpevole o innocente. Non siamo un tribunale, non siamo giudici per i reati di cui è accusata. Ma siamo qui per parlare ancora una volta di diritti fondamentali violati da uno Stato membro dell'Unione Europea, l'Ungheria. Ilaria Salis è stata condotta in tribunale in catene, come una schiava di non si sa quale epoca, dopo aver trascorso mesi privata dei diritti basici di ogni imputato in uno Stato di diritto, senza poter telefonare in condizioni disumane, legata al collo, circondata da topi e da insetti. C'è anche un altro caso simile, colleghi, che vorrei sollevare in quest'Aula e riguarda un altro Stato membro, la Romania. È il caso di Filippo Mosca, un ragazzo siciliano, italiano, europeo, detenuto anche lui in condizioni disumane nel carcere di Porta Alba di Costanza sulla base di un interprocessuale inaccettabile per gli standard europei.